signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ancora ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria e finalmente dopo un po di tempo torniamo a parlare di quello per cui è nato questo canale ovvero sia parlare di libri sono tornato un pochino in grana c'ho un po di soldi da spendere e mi sono comprato questo libro di ajan kershaw intitolato la fine del terzo reich allora di ajan kershaw ho come dire recensito e ho parlato più volte del suo fondamentale hitler e l'enigma del consenso libro importantissimo libro fondamentale per comprendere i meccanismi del potere e della mentalità hitleriana ma soprattutto libro che fornisce libro che si ricollega anche alle tematiche di questo volume scritto dal professor inglese insomma basti dire che è prof insomma stiamo parlando di un professore dell'università di Sheffield che ha scritto alcune delle opere più importanti su hitler nel corso degli ultimi vent'anni diciamo che kershaw nel corso degli ultimi vent'anni è oggettivamente divenuto il punto di riferimento per conoscere quello che è stato il nazismo e quali sono stati i suoi meccanismi questo libro allora dall'introduzione di ajan kershaw si dice che mentre all'inizio del 1945 si profilava la disastrosa sconfitta si sentiva qualche volta dire si sentivano qualche volta i tedeschi dire che avrebbero preferito una fine con orrore a un orrore senza fine e una fine con orrore fu senza dubbio ciò che sperimentarono l'autodistruzione provocata dal perseverare nella lotta fino al limite estremo sino a subire una quasi totale devastazione e una completa occupazione da parte dei nemici è estremamente rara eppure è questo che la germania fece nel 1945 perché si è tentati di dare una risposta semplice cioè che hitler rifiutò in maniera irremovibile di prendere in esame qualsiasi ipotesi di resa per cui non c'era alternativa al continuare a combattere questa risposta suscita però altri interrogativi e affrontarli non si può se non esaminando le strutture del potere e i modi di pensare imperanti nella germania mentre la catastrofe stava inghiottendo il paese nel 1944 1945 e questo e e questo libro cerca di fare questa analisi e ci riesce oserei dire anche piuttosto bene kershaw ha il dono di una grandissima chiarezza espositiva kershaw ha il dono di essere estremamente chiaro estremamente complensibile di descrivere in maniera molto esaustiva molto chiara quello che era il quello che era il terzo reich nei convulsi mesi della sua agonia della sua agonia della sua agonia finale e in pratica kershaw ci spiega ci fa capire perché fino all'ultimo il regime fino all'ultimo la germania continuò a combattere anche quando tutto era perduto la volontà hitleriana di resistere fino all'ultimo per evitare una un'onta all'onore nazionale come il tradimento del 1918 la famosa pugnalata alle spalle è come dire hitler che nel corso degli ultimi sei otto mesi di guerra diciamo diciamo più o meno dopo circa dopo l'operazione valchiria più o meno insomma dopo l'attentato dell'operazione valchiria hitler che scatena dopo avere distrutto come ben sappiamo gli oppositori interni dopo avere perseguitato gli ebrei e le minoranze dopo avere iniziato la guerra di sterminio e colonizzazione a est hitler rivolge quei sistemi contro il suo stesso popolo i tribunali volanti che impiccavano i presunti disertori la ricerca continua e ossessionante dei cosiddetti disfattisti la la caccia a coloro che potevano dubitare del volere del führer praticamente fino a pochi minuti prima della resa o anzi nel momento stesso in cui la resa veniva firmata i tribunali volanti delle ss impiccavano disertori sospetti di tradimento gente che aveva insomma abbandonato la divisa di fronte alla fuga così insomma le condanne a morte le condanne a morte combinate durante gli ultimi mesi di guerra furono un numero spaventoso e insomma si trattava come dire di cose terrificanti cioè insomma siamo sinceri la germania nazista negli ultimi sei otto mesi della sua vita prima della del gottdammerung kershaw dicevo è estremamente chiaro su questa cosa cioè allora dicevo e fra ci scrive che fra i semplici allora la gente aveva ottime ragioni allora il regime rappresentava per i suoi stessi cittadini un grave pericolo più ancora dopo che il terrore nel febbraio 1945 si era aspramente intensificato la gente aveva ottime ragioni per sentirsi intimorita il terrore da prima esercitato all'estero nell'agonia del regime si ritorse sulla popolazione stessa della germania e non solo sulle minoranze oggetto di persecuzione fra i semplici soldati crebbe il numero dei disertori che si mischiavano con gli sbandati le corte marziali lo abbiamo detto reagirono con feroci condanne che volevano essere esemplari le corti marziali straordinarie introdotte alla metà di febbraio non erano se non organi tribunali tribunalizi fittizi e illegali che emettevano quasi esclusivamente sentenze di morte diventate ai primi di marzo itineranti queste corti potevano raggiungere qualsiasi area del fronte e nel giro di pochi minuti potevano emettere condanne a morte di imboscati disfattisti sovversivi e fare eseguire immediatamente le sentenze degno di nota il fatto che le corti marziali continuarono a emettere sentenze capitali anche dopo la capitolazione della germania anche tra i civili chiunque non stava in riga magari per disperazione fino alla fine della guerra poteva incorrere in punizioni brutali e si deve all'effetto intimidatorio di questo terrore se la gente era scoraggiata rassegnata stanca della guerra ma non ribelle chi osava alzare la voce per non parlare di compiere vere e proprie azioni contro il regime era selvaggiamente represso la maggior parte delle persone decideva sensatamente che non c'era niente da fare tranne aspettare la fine sperando che americani e inglesi non arrivasse e arrivassero prima dei russi ma tuttavia continua kershaw il terrore non spiega ogni cosa serve a spiegare soprattutto quello che avveniva ai livelli più bassi della popolazione decine di migliaia di soldati disertarono e molti di loro pagarono con una esecuzione sommaria anche nell'ambiente militare comunque e tenendo presente il più ampio effetto intimidatorio della drastica punizione che poteva aspettarsi chi rifiutava di combattere la grande maggioranza dei soldati non disertò e non prese nemmeno in considerazione l'idea di farlo continuò a combattere la grande ma continuò a combattere spesso con fatalismo persino con riluttanza ma il più delle volte anche nelle ultime disperate settimane con forte impegno anzi addirittura con entusiasmo e questo non si può spiegare appunto solo con il terrore allora e i meccanismi del perché il regime nazista continuò la germania nazista continuò fino all'ultimo a farsi travolgere continuò fino all'ultimo il suo percorso verso l'autodistruzione è indicato in questo libro di aian kershaw un libro che vi consiglio caldamente di procurarvi un libro che vi consiglio caldamente di leggere kershaw è un maestro nella narrazione storica e nella ricerca storiografica è un maestro nella divulgazione è un maestro che scrive in maniera esemplare chiara e diretta le considerazioni sulla fine della germania nazista sulla sua agonia sul suo collasso sulla sua voluta cercata e perseguita autodistruzione tutto qua quindi cari signori io vi ripeto procuratevi questo libro leggetevelo con estrema attenzione perché merita e la fine del terzo reich germania 1944 1945 l'autore è il professor aian kershaw ripeto leggetelo 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 con estrema attenzione e come sempre nei commenti nelle nei commenti al video fatemi sapere che cosa ne pensate è un libro importante per non dire importantissimo forse fondamentale insieme all'altro volume di kershaw che ho già insensito ovvero sia hitler e l'enigma del consenso che sono due libri questo e hitler e l'enigma del consenso che vanno letti perché uno spiega l'altro e viceversa il potere carismatico di hitler le conseguenze estreme del suo potere carismatico del suo potere totale e assoluto quello che portò la germania alla catastrofe alla sconfitta all'apocalisse tutto quindi cari signori come sempre ripeto aspetto i vostri commenti come sempre arrivederci al mio prossimo video e come sempre ciao